Allergia di qualsiasi tipo, farmacologico, allergie a cortisone? Allè, l'abbiamo fatto! L'obiettivo di Vaccine Go è riuscire a portare il vaccino a tutti, facilitando chi ha bisogno di fare questo vaccino e non ha potuto prenotare o non può rispettare le date che sono state date. Quindi facilitare i passeggeri, facilitare i lavoratori che non possono rispettare gli appuntamenti presi e chiunque voglia vaccinarsi noi siamo disponibili. In aereo, dopo 15 minuti, è difficile che ci possa essere una reazione anafilattica, impossibile. Al massimo le reazioni possono essere ritardate a distanza di 24-48 ore, ma mai così gravi. Appena arrivato con l'aereo ho detto vado a vaccinarmi e sono stati veramente competenti. Se sono tutti così, se ne fanno molte. Io ho chiesto di vaccino perché bisogna andare a via, ma spero che ci sia aiutare altri. Perché siamo non rischi, ma se possiamo fare qualcosa di aiutare, perché non? Sì, sì, sì. Grazie a tutti.